È stato un concorso lungo. Ieri Teramo ci ha incontrato in un tavolo tecnico, ha incontrato i tre rappresentanti delle tre asli di riferimento di questo concorso. Teramo ha preso una posizione, quindi ha intenzione comunque di assumere i 22 posti messi a bando per quanto riguarda l'asli di Teramo, altresì confermato di aver inoltrato le graduatorie delle altre asle di riferimento nelle sedi competenti. Quindi comunque chiediamo a gran voce che anche le altre sedi procedano come ha fatto Teramo. Siamo delle figure cardine perché comunque se avete letto giornali, sentito proteste da tutte le parti c'è bisogno di noi. C'è bisogno di noi a gran voce. Ci sono doppi turni, salti delle ferrie. Più si legge questo e più si alza la protesta perché il personale che vuole lavorare c'è. Quindi basta riconoscergli questo e i problemi potrebbero anche essere risolti. Quindi diminuire le liste di attesa, riportare la sanità nella nostra regione perché incrementando i servizi con il personale annesso si ria comunque la centralizzazione di quello che è una asle che funziona, che ha fatto acqua da tutte le parti, ma in realtà funziona. È una bella realtà. Ve lo dice una che lavora al nord. Quindi è una bellissima realtà. Basta solo ritrovare la giusta strada per poter arrivare a tutto questo. Quindi sì, noi siamo pronti. Siamo qui che aspettiamo e siamo pronti.